Grazie. E lo facciamo con il caso Alcenero portato da Aruba Cloud. E' presente i relatori Matteo Rambelli Lombini, IT Manager di Alcenero e Diego Maria Ricci, Enterprise Solution Manager di Aruba Cloud, a cui do il benvenuto. A questo punto lascio subito la parola a Matteo per la presentazione del caso. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Allora, per quanto riguarda Alcenero, vi racconto quella che innanzitutto di chi è Alcenero e che cosa fa, anche se diciamo è un'azienda abbastanza conosciuta sul panorama nazionale. Alcenero è un'impresa che, diciamo, è un po' unica nel suo genere perché dal 1978 promuove un'agricoltura di tipo biologico. Ha sviluppato oltre 350 prodotti, da pasta di pomodoro alla pasta di grano, all'olio, dati vegetali, legumi, frollini, tantissime referenze. Sono veramente tante, ce ne sono altre tante che vengono prodotte ogni anno nella nostra area di cerchio e sviluppo. Quello che è un po' l'idea di Alcenero è promuovere un'agricoltura biologica e riportare i valori e tutto quanto quello che l'agricoltura biologica propone nei propri prodotti. Mettendo al centro non solamente il profitto, ma il prodotto e soprattutto un tema, un valore. Questo che vedete adesso è il nuovo purpose di Alcenero e forse l'avrete riconosciuto perché ci sono stati alcuni passaggi pubblicitari di recente nella campagna pubblicitaria in televisione. Il purpose propone di produrre cibo onestamente nel rispetto della natura, buono, che alimenta la vita delle persone oggi, sostenendo la vita sempre. Questa per noi è un po' la sintesi dei valori dell'agricoltura biologica di Alcenero che fanno parte proprio della ricetta dei nostri prodotti e che cerchiamo di raccontare ai nostri consumatori perché ci scegliano. Ovviamente io sono IT manager di Alcenero e penso di essere più indicato a raccontarvi più che l'azienda e il valore della filiera quanto vista un po' l'occasione di oggi quello che è stata la nostra esperienza di migrazione a cloud che abbiamo fatto insieme ad Aruba e lo scorso anno. Trasloco. Allora, questa slide ci ha chiesto trasloco perché trasloco è stata un po' la parola che negli uffici e nel nostro dipartimento è risuonata per diversi mesi. Alcenero è un'azienda che è cresciuta molto in fretta e in poco tempo. Ha affrontato quattro traslochi in meno di dieci anni proprio per andare a rincorrere un po' la sua crescita sia in termini di persona negli uffici quanto di necessità di spazio nel magazzino per la parte logistica. In particolare l'ultimo trasloco che abbiamo fatto lo scorso anno aveva tutte le caratteristiche per essere quello più complesso perché avrebbe fatto spostare sia la parte uffici che la parte magazzino ma soprattutto c'è una particolarità cioè che Alcenero è monosede aveva un sistema WMS per gestire appunto la parte logistica on-premise e ovviamente come tutte le aziende ma soprattutto le aziende di logistica non poteva permettersi un fermo del sistema perché questo equivaleva a perdere delle spedizioni a perdere il fatturato con dei numeri molto importanti. A questo punto c'erano due scenari possibili che la soluzione è uno adesso questa è un'immagine simpatica ovviamente creata con intelligenza artificiale visto che era molto di moda era traslocare fisicamente il data center con tutte le complessità che questo si porta dietro cioè dal dover riconfigurare i server riconfigurare il network avere di fatto un fermo operativo avere un sacco di incognite oppure ciò che io invece cerco sempre di fare è che cerco di raccontare un po' anche ai miei colleghi cercare di trasformare il problema in un'occasione ossia con l'occasione del trasloco fare un ultimo trasloco della parte infrastrutturale soprattutto quella più critica, più delicata quella legata al WMS verso il cloud di modo che non si fosse più legati fisicamente a una localizzazione del server del data center ma si potesse soffrire solamente della disponibilità dei dati e degli applicativi ed è un po' quello che abbiamo fatto Diego non so se vuoi intervenire anche tu noi abbiamo scelto Aruba come partner per diversi motivi io qui in Aruba ci sono i costi certi il Made in Italy e il basso impatto però forse per la parte di Aruba sei più tu la persona indicata a parlare di questa cosa sì sì assolutamente intanto buongiorno a tutti ecco Alcenero appunto è un grandissimo caso di successo Matteo ha raccontato l'azienda ha raccontato l'esigenza sicuramente c'è stata anche una comunione di intenti ma anche una condivisione di valori perché molti dei valori che ha Alcenero ha un'azienda e gli ha altre tanto anche Aruba sicuramente la migrazione come dicevi Matteo è stata un grande caso di successo e Aruba ha contribuito sicuramente come partner non solo tecnologico ma anche di servizio in questa migrazione bene grazie a entrambi per questo caso insomma che ci fa capire anche come effettivamente il cloud possa essere un supporto a un'azienda in crescita a una scalabilità che come diceva Matteo permette poi di non dover traslocare più tutto ma di supportare la crescita dell'azienda in modo flessibile è chiaro che questo trasloco questa migrazione cambia poi in modo direi radicale diciamo le modalità di gestione poi delle risorse informatiche in particolare diciamo porta anche a una maggiore chiaramente variabilità dei costi e incertezza diciamo nella previsione di quello che sarà il costo effettivo del cloud e quindi chiedo a te Diego come siete riusciti diciamo a garantire una visione sui costi certa e a costruire questo caso di successo in questo senso sì questo diciamo grazie per la domanda questo è sicuramente uno dei nostri valori importanti il tema dei costi dei costi certi cioè riuscire a fare un passaggio sul cloud senza avere la preoccupazione di dover pianificare continuamente il budget continuamente modificarlo non avere la certezza dei costi sicuramente sappiamo quanta ansia poi crea i nostri clienti per questo noi invece all'opposto abbiamo fin da subito fin da sempre abbiamo impostato una diciamo una buona pratica che è quella di avere i costi certi cioè il cliente quando passa a sua ruba ha costi prestabiliti cioè può pianificare tranquillamente la propria spesa il proprio budget e quindi ha modelli di costo molto simili a quelli dell'on premise con il grande vantaggio del cloud grandissima scalabilità modalità diciamo di usufruire delle risorse on demand e poi c'è sicuramente anche un tema di made in Italy qua lo vediamo nella slide made in Italy significa essere sicuramente un interlocutore diretto per i nostri clienti poterli aiutare diciamo nella loro trasformazione avendo anche degli islam molto stringenti ma made in Italy noi lo sappiamo made in Italy significa anche principalmente costruire abiti su misura cioè capire l'esigenza del cliente capire l'esigenza in questo caso di accenere costruire costruire degli abiti su misura questo è anche possibile grazie anche la grande capacità di visione e di governance che ha anche il cliente stesso e nel caso specifico il cinema e poi il tema del basso impatto che sicuramente è un tema che accomuna anche le due aziende sul tema della sostenibilità riuscire a migrare verso l'infrastruttura verso la ruba che ha le data center tier 4 tecnologie di ultima generazione può sicuramente consentire ai clienti di avere un bassissimo impatto ambientale e un vantaggio per tutta la collettività bene grazie Diego a questo punto ti faccio un'altra domanda prima Matteo raccontava appunto come ovviamente se non funziona il magazzino come per un'azienda come Alcenero significa che l'azienda non lavora quindi chiaramente in un percorso di migrazione di un applicativo di questo tipo è anche volendo un rischio per la continuità operativa e quindi ti chiedo insomma come siete riusciti a gestire questo rischio e poi a fare effettivamente una migrazione efficace senza generare problemi sui processi aziendali sì qui insieme a Matteo abbiamo rivisto diciamo tutti quelli che erano i requisiti di Alcenero uno dei requisiti principali era no switch off cioè la possibilità di tornare indietro eventualmente se la migrazione non fosse andata diciamo per il verso giusto ci fossero stati dei problemi quindi uno dei grandi diciamo requisiti di Alcenero era nessun fermo operativo e anche la possibilità di tornare indietro quindi noi abbiamo individuato all'interno che non si ti sentiamo male Diego non so se sentite? leggermente basso meglio? ora sì ora sì meglio ok dicevo quindi rispetto al requisito di Alcenero nessun fermo operativo e possibilità di failback nel caso la migrazione avesse avuto qualche problema abbiamo suddiviso il progetto in quattro fasi la prima fase è stata quella di individuare la soluzione il servizio la tecnologia migliore che rispondesse ai requisiti di Alcenero però avendo noi diverse tecnologie a disposizione del nostro portafoglio una volta individuata la tecnologia abbiamo diciamo modificato i puntamenti di DNS abbiamo fatto il setup delle zone e poi nella terza fase abbiamo attivato la tecnologia e tutto il servizio gestito per in modalità reverse copy per avere l'opportunità nel caso in cui ci fossero stati qualsiasi tipo di problematica possibilità anche di tornare indietro il caso è un grandissimo caso di successo la migrazione è andata diciamo è stata completata e quindi ci siamo ancora raccontati ottimo grazie Diego a questo punto torno da Matteo per chiedergli diciamo un tema che spesso è un po' un freno nella decisione di andare in cloud per aziende soprattutto magari collocate in determinati posti distribuiti anche sul territorio italiano dove magari c'è una latenza di connessione che può generare dei problemi nei processi operativi come siete riusciti insomma a risolvere questa problematica e che risultati avete ottenuto? Sicuramente il problema della latenza è il problema principale che abbiamo dovuto affrontare e riuscire a salvaguardarci da questo tipo di problematica perché i software come i software WMS che comunicano con degli strumenti con degli end point che sono wifi soffrono tanto questo tipo di problematica noi sicuramente col Trasocon nella nuova sede abbiamo fatto un upgrade di performance della nostra rete wifi da 2,5 gigahertz al 5 e abbiamo chiesto ad Aruba la certezza di avere una latenza massima che fosse sotto i 15 millisecondi a parte dalla nostra sede fino al server dentro il data center di Aruba spostando appunto quella che prima era una latenza wifi su una latenza di connettività in realtà loro ci hanno confermato ovviamente che questo era possibile noi ad oggi raggiungiamo dalla nostra sede il data center di Aruba sotto i 10 millisecondi quindi la percezione comunque sia degli end point sia di chi lavora su questi software è di lavorare su un segmento di rete semplicemente dislocato quindi le performance sono veramente molto interessanti bene per chiudere diciamo ti chiedo quali prossimi passi prevedete dopo questa migrazione e se questa migrazione vi ha insomma anche magari aperto delle nuove opportunità di business allora questa migrazione ci mette in condizione di poter fare un upgrade di risorse praticamente a tempo zero cioè sapere che se dovessimo avere un incremento di fatturato un incremento di operatività aprire dei nuovi poli logistici in giro per il mondo ecco che il software che gestisce la parte del magazzino è già disponibile già pronto già predisposto tramite un portale cloud è possibile aumentare le risorse quindi la capacità computazionale senza dover pensare di mettere in piedi un'altra infrastruttura dedicata quindi potenzialmente possiamo aprire qualsiasi polo logistico ovunque in dei tempi molto interessanti poi è ovvio che portare un asset così critico come software WMS sul cloud de-responsabilizza al cenero in termini di disponibilità del dato e porta a questa garanzia da parte di un partner che sicuramente è leader in Italia per questo tipo di attività abbiamo la garanzia dell'efficienza del funzionamento la disponibilità del dato oggi è una delle cose più importanti bene grazie direi un bel caso insomma anche di possibile crescita di aziende italiane all'estero e che ci ha fatto vedere un po' anche come il cloud insomma possa essere un supporto in questo quindi io ringrazio Matteo ringrazio Diego che è